Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, le maschere del Carnevale dell'Orciolaia e dei figli di Bocco torneranno in piazza Sant'Agostino per un pomeriggio di divertimento. Dalle 16.30 alle 18.30 di sabato 19 marzo, i bambini e le bambine, ma perché no anche gli adulti, potranno incontrare i personaggi dei cartoni Disney e le maschere dei figli di Bocco. Una iniziativa realizzata grazie alla volontà dei commercianti della piazza, in collaborazione con Confesercenti e con il Carnevale dell'Orciolaia. C'è tanta voglia, afferma Simone Angiulli, direttore di Confesercenti Arezzo, di lasciarci alle spalle due anni di pandemia. Tra noi titolari dell'attività è vivo l'entusiasmo e per questo abbiamo voluto offrire alla cittadinanza un momento di divertimento. Piazza Sant'Agostino si conferma così la piazza a misura di famiglie, capace di calamitare l'attenzione di tutti. A fare compagnia con la loro allegria e la loro musica ci saranno anche Beppe, Marco e Robi. Chi interverrà potrà incontrare le maschere dei figli di Bocco del Carnevale di Castiglionfibocchi. Assieme a loro anche Minni, Paperino, Topolino, Pluto e Pippo. E fantasticare, perché no, tra le maschere di Carnevale.